Ciao a tutti ragazzi, io sono Coridan, ancora una volta ben ritrovati nel mio canale. Come vi avevo promesso, nel video unboxing di Massive Darkness 2 Hellscape, vi avevo detto che sarebbero passati qualche giorno, giusto tempo di organizzarmi, per farvi il video e dirvi un po' il mio pensiero su questo gioco, che penso non ci sia bisogno di presentazioni, perché viene da un gioco Massive Darkness che ha avuto tante espansioni e tanti pacchettini, che poi una volta magari vi mostrerò in un video, perché ne ho diversi, molto interessante, a cura di K'mon, portato in Italia dalla Asmo d'Italia, che ancora una volta ringrazio di cuore per la nostra collaborazione e per quello che ovviamente ci hanno offerto in questa copia recensione. Ve ne parlo a breve, dopo la sigla. Massive Darkness 2 Hellscape, in questa edizione italiana a cura di Asmo d'Italia, è un dungeon crawler, un dungeon crawler abbastanza classico, per quanto ovviamente ha delle regole sue, importanti e anche abbastanza particolari, non è un gioco che sprizza originalità dai pori, però quello che fa lo fa decisamente bene, si difende bene, e infatti negli anni, nella comunità di giocatori di giochi da tavolo, si è ritagliato una sua fetta di utenza sempre più grande, perché comunque ha un'ambientazione sua, poi a parte la cosa che colpisce sempre dei giochi della K'mon, che è vero, spesso hanno un costo, magari uno lo compra e fa 100-120 euro, però per un gioco da tavolo 120 euro, poi lo apri e c'è tipo 70-80 miniature, molto dettagliate, cioè veramente dettagliate, un po' statiche nelle pose, però dettagliate a livelli veramente alti, quindi se vai a far conto delle miniature che hai comprato, ti sei fatto praticamente un esercito, l'hai ripagato il costo, non potrebbero avere costi bassi, giochi del genere, però si è ritagliato questa fetta, perché è un gioco particolare, molto amato, e che già nella sua, non tanto prima edizione, nella sua scatola di base, nel suo gioco di base, che appunto era Massive Darkness il primo, ha avuto talmente tante espansioni, che hanno consentito alla gente di ambientarlo un po' dove preferivano e per tutti i gusti, quindi mettendoci orchi, goblin, chimere, spettri, guerriere del caos, delle specie di scaven, uomini ratto, e chi più ne ha più ne metta, e gli eroi vanno sempre da una formazione classica, che è sempre magari l'arciere, il ladro, il mago, il guerriero, il barbaro, e poi ne sono usciti molti altri, con le scatole di espansione. Il regolamento, avendo letto questo Massive Darkness 2 Hellscape, è praticamente lo stesso, ed è rimasto pressoché invariato. Hanno rivisto magari qualcosina, qualche valore a livello di caratteristiche, e forse, consentite, ma bilanciato un pochino di più le sfide con i mostri, che si trovano rispetto al primo, però il gioco fondamentalmente è sempre lo stesso. Abbiamo un personaggio, un personaggio che dovrà avere, giustamente all'inizio, un equipaggiamento, e questo equipaggiamento, ci darà la possibilità di tirare dei dadi, di diversi colori, quindi magari quest'arma mi fa tirare uno o due dadi, di quel colore, quest'altra arma mi fa tirare uno, quella magari tre, e così via. E lo scopo del gioco è quello di fare le missioni, che sono raccolte nel librettino, che il librettino è tutt'uno stavolta fa, regolamento e missioni, non sono due librettini separati, come di solito, ad esempio, uno zombie side, ma è tutto insieme, quindi è più di facile, immediata lettura, un pochino più cicciotto, il libretto delle regole, e ci sono tutte quante le missioni alla Heroquest, che noi dovremo fare in sequenza dalla prima all'ultima. Peculiarità di Massive Darkness è quella che si passa di livello durante la partita, quindi nel buon stile dell'Akmon con zombie side, si parte magari dal livello 1, e si arriva a fine del dungeon stesso, che saremo il livello 4 e il livello 5, livello che ovviamente va risettato ad ogni missione, quindi come zombie side, finita la missione che siete livello 4, missione successiva, non è che partire dal livello 4 e poi alla fine è arrivata al livello 100, si riparte sempre dal primo livello, e mano a mano che si combatte, si va avanti all'avventura, si continua a livellare, e livellando si sbloccano nuove abilità, nuovi talenti, ovviamente collegate alla propria classe, si sbloccano nuovi equipaggiamenti, e altre cose, e l'unica cosa che bisogna entrarci un po' nell'ottica, vi prendo Heroquest, quando si va a fare un tiro di dadi, si tirano dadi d'attacco, un colpito, il nemico tira dadi di difesa al mostro, un parato, uno e uno si annullano, qui invece i dadi si tirano tutti insieme, perché questo è un gioco totalmente cooperativo, quindi non c'è il Dungeon Master che muove i mostri, ma è tutto quanto cooperativo, quindi quando si va ad attaccare un mostro, si mettono i dadi, magari dell'abilità del personaggio, boh, due dadi, altri due dadi, dati d'allarma, poi magari se siamo nella luce o nell'oscurità, come nel primo, si tira magari nell'oscurità un dado in più, quindi un altro dado, e poi magari un dado dato da un oggetto, un monile, magari si tirano sei dadi, i mostri quanto c'hanno? I mostri hanno di difesa loro uno, più magari due dall'armatura che hanno, perché è un boss o cose particolari, quindi a difesa tre, si prendono, e di solito i dadi di difesa, di solito sono quelli celesti, però a volte i mostri hanno dei dadi particolari neri loro, si prendono tutti questi dadi, tutti insieme, sia quelli d'attacco che di difesa, si tirano, e si va a vedere quello che esce, direttamente si fa la lettura, che ne so, c'è una difesa e tre ferite, abbiamo fatto due ferite, perché una è stata bloccata dalla difesa, si va a vedere quanti punti ferita c'hanno le orde, perché in questo gioco, in Massive Darkness, i mostri che incontrate sono orde, gruppi, non mostri singoli, i mostri singoli sono, mostri errante, che sono quelli potentissimi, o i boss, tutti quelli che trovate, sono sempre orde, e l'orde è sempre il boss, più un add, per ciascun giocatore, che è in partita, quindi se avete fatto un gruppo da quattro, le orde che troverete saranno sempre un boss e quattro minion, quindi cinque, e sulla carta c'è sempre scritto i punti ferita del boss e dei minion, quindi i minion magari hanno due punti ferita ciascuno, ogni due ferite che è fatta a quell'orda, levate un minion, quindi un minion in meno, ferite in meno che vi arriveranno, attacchi in meno, stessa cosa poi dopo i mostri, quando nel loro turno ci dovranno fare delle ferite e dei movimenti, i mostri tenderanno sempre le orde a spostarsi, spostarsi verso il giocatore più vicino, poi nel caso lo spareggio, attaccano a quello meno ferito e altre cose, e quando ci si sposta sulla mappa, si vanno ad aprire le porte, quando si aprono le porte, si vanno a rivelare tutte le stanze appena sbloccate, e nel caso ci siano tre stanze, andranno girate tante carte, quante sono le stanze, per vedere la generazione di mob al loro interno, e nel caso sulla mappa ci siano simboli tipo lucchetti, vuol dire che là dentro ci saranno anche tot, carte e tesoro da girare, quando si girano le carte tesoro, si mettano dentro la stanza, magari tre carte tesoro, dentro quella stanza lì, la stanza prima va pulita dai mob, dopo potete prendere i tesori, e nei tesori ci possono essere anche trappole e mostri erranti, del buon stile di HeroQuest, oppure gli stessi mob, quando si va a generare un'orda, si prende una carta oggetto e li si mette sotto, uno perché quell'orda vi attaccherà con quella stessa arma, che è una figata che io adoro di Massive Darkness, cioè i mostri usano la carta, che voi alla fine li luterete, e qui non solo, poi c'hanno anche i tesori, però l'equipaggiamento sembra un po' alla D&D, ok ho ucciso il gruppo, li luto, cosa trovi? Avevano delle spade, trovi delle spade, ed è bellino, effettivamente ci sta, come idea, e poi ovviamente come vi ho detto, passando di livello, diventate sempre più forti, il livello che poi viene resettato alla missione successiva, e dovete fare semplicemente quello che c'è scritto nella missione, quindi il regolamento come vedete, è bene o male sempre lo stesso. In conclusione, Massive Darkness 2 Hellscape, come riporta la scatola, è un gioco da 1 a 6 giocatori, quindi tanti, completamente cooperativo, dai 14 anni in su, durata media 120 minuti, secondo me forse anche qualche, un pelino di più, perché di solito è sempre durata più di 2 ore una partita, comunque sì, diciamo mezzo alle 2 ore e mezzo, 3 ore, il contenuto è veramente spettacolare, i tiles sono di alto livello, i disegni, le miniature sono fatte benissimo, è un gioco molto 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 interessante, però è un gioco che richiede un po' di entrare nelle sue meccaniche, perché ci sono tanti mazzi, ci sono tante carte che sono di facile lettura, potrebbero mettere però paura, perché ci sono i mostri livello 1, livello 2, livello 3, però a loro volta i mostri hanno tesoro livello 1, tesoro livello 2, tesoro livello 3, e anche le armi e gli equipaggiamenti hanno diversi livelli, quindi potrebbero mettere paura, però fondamentalmente tutto quello che serve alle orde di livello 1, c'è scritto sulla carta, quindi li mettete magari divisi per bene organizzati sul tavolo, e il gioco è di facile lettura. Io ringrazio ancora una volta l'Asmo d'Italia, per questa copia che mi hanno fornito, grazie di cuore, è sempre un onore collaborare con voi, se lo volete ordinare, primo link in descrizione, in sovraimpressione, dalla Gioco Libreria Simola, nostro negozio sponsor, al miglior prezzo sul mercato, ricordatevi sempre di usare il codice discount Corridan7, quando acquistate carrello discount Corridan7, tutto scritto maiuscolo, per avere uno sconto del 7%, e per spese superiori ai 79€, lo ricevete a casa gratis, senza pagare le spese postali in 48 ore, andate sul sito, pallino rosso è finito, oppure io l'ho cercato Massive Darkness, ma non c'è, mandate una mail a Corrado, al supporto della Gioco Libreria Simola, al proprietario, fatevi presente che arrivate dal mio canale, dal canale di Corridan, e lui farà il possibile per trovarvelo, al miglior prezzo sul mercato, quindi anche se non ce l'ha nel catalogo, un gioco fuori catalogo, oppure è finito, chiedetelo, comunque tutt'al più mandate una mail, io ringrazio ancora una volta l'Asmo d'Italia, e ragazzi, se vi è piaciuto Massive Darkness, questo vi piacerà a pari merito, è un gioco interessante, e non vedo l'ora di vedere le espansioni, che verranno portate in Italia appunto da Asmode, ciao ragazzi, alla prossima, se questo video ti è piaciuto, lascia un like, e clicca sulla campanella, per essere sempre aggiornato, ricevere notifiche, e non perderti nemmeno un video in uscita, primo link in descrizione, primi link che trovate, ricordatevi sempre di iscrivervi anche al canale Facebook, al canale mio di Live Twitch, alla mia pagina Instagram, e alla mia pagina TikTok, che sono sempre aggiornate, e su Twitch, mano a mano, troverete la programmazione aggiornata, con tutte quante le live del giorno, quindi guardatela sempre, perché ci sarà sempre la programmazione aggiornata, mi raccomando, iscrivetevi soprattutto ai social, perché sono sempre aggiornati, e se devo comunicare qualcosa, anche per il canale YouTube, lo troverete sempre lì, ciao alla prossima!